Prima di inoltrarci nella fitta rete dei cicli, cicli a gas a vapore, cicli combinati, partiamo da alcune conoscenze che, se vogliamo, sono dei pre-requisiti. Ecco, definiamo una grandezza, chiamata grandezza di accumulo, in particolare un calore Q con A di accumulo relativo a un certo processo P e a un certo livello termico L, quindi L livello termico. Questa è l'integrale su un certo T soprassegnato del flusso termico del tempo e rappresenta la somma espressa dall'integrale, quindi la sommatoria intesa in senso continuo, di tutte le quantità di calore, quindi tutte le quantità di calore scambiate a un livello termico minore o uguale a L. Quindi possiamo riscrivere il nostro Q soprassegnato come un particolare intervallo intervallo di tempo, compreso tra un istante T1 e un istante T2, in cui il livello termico è minore o il limite uguale al livello termico L, questo istante per istante. quindi questa grandezza è una grandezza di accumulo e gode di una particolare proprietà che in realtà è una sioma del secondo principio il quale dice che se in un processo ciclico, quindi indichiamolo con C a un certo livello termico, questa grandezza, questa funzione di accumulo è maggiore o uguale a zero per ogni livello termico, allora il calore scambiato durante il ciclo a quel livello termico è uguale a zero. Esistono alcune cose pertanto che non possono accadere nel senso di Kelvin piuttosto che di Kelvin Planck, piuttosto che di altri eminenti studiosi che hanno studiato questa funzione di accumulo. Clausius è uno di questi. Quindi potremmo intitolare a questo capitolo il non può essere, non può succedere che, non può succedere che. Dunque, secondo Clausius, cosa non può succedere? Secondo Clausius, non può esistere una macchina termica che operi tra due temperature inferiore e superiore T- e T+, assorbendo un Q- e cedendo comunque più alle rispettive temperature T- e T-. In pratica non può esistere una funzione di accumulo Q con A che nel tempo e cioè a certe temperature, quindi abbia un andamento di questo tipo, a T- assorba un Q- e a T+, ceda un Q+. Quindi non può esistere un salto positivo di più, avendo un lavoro assorbito uguale a 0. non può succedere. Secondo Clausius, questo non è un diagramma di funzione di accumulo pertinente, possibile da un punto di vista fisico. E Kelvin cosa dice? Sono tutti proibizionisti, ognuno proibisce qualcosa. Kelvin non parla di temperatura superiore o inferiore, parla ben inteso della stessa temperatura qui. Quindi cade ogni eccezione di Q più Q meno, Q meno, più, c'è un lavoro Q, un lavoro L e un calore Q a una certa temperatura T. Quindi la nostra ipotetica funzione di accumulo, Q con A, a una certa temperatura T vede un certo salto positivo e poi questo permane. Quindi non è possibile, secondo Kelvin, un assorbimento di calore ad una sola temperatura T, in modo che ci sia anche una cessione di calore. Se c'è una cessione di calore, ci devono essere due temperature, uno scambio di due calori, quindi ancora 9. Kelvin-Planck rafforzano il proibizionismo, bene inteso, introducono due temperature T+, T-, dicono a T+, c'è un lavoro Q+, assorbito, viene anche ceduto un certo lavoro L, bene, funzioni di accumulo. a una temperatura T- e devo avere necessariamente una salita della funzione di accumulo Q fino alla temperatura T+. Vedete che qua in T- a livello di calore non esiste nulla, però allo stato di temperatura T+, corrispondente a una fornitura di calore, bisogna arrivarci, in particolare cedendo lavoro. Dunque, Kevin-Planck dice che non è possibile avere una funzione di accumulo qua monotona crescente con l'accessione di lavoro, quindi, l'accessione di lavoro, quindi, l'accessione di lavoro. Kelvin-Planck E allora, tra tante cose non possibili, che cos'è possibile? è possibile una macchina di questo tipo, un MM, con una Q+, a temperatura T+, con una Q-, a temperatura T-, con un lavoro L, quindi, un andamento, scusate, della funzione di accumulo Q con A, per esempio di questo tipo. arriviamo in T-, arriviamo in T-, abbiamo giustamente un valore Q-, saliamo, se ci stabilizziamo ci stabilizziamo a partire di qua abbiamo fornito complessivamente un Q+, Q+, questo è proprio la temperatura T+, e questo, bene inteso, è il lavoro notare un lavoro ha una funzione di accumulo finalmente, nel senso, alla fine del periodo T1-T2 positiva corrisponde un lavoro positivo di questo tipo che è il momento